Musica Penso che il sostegno allo studio con il volontario che mi ha aiutato sia stato molto utile perché mi ha aiutato a utilizzare dei programmi per fare dei lavori di geografia. Ho cercato di stimolare un po' la sua curiosità, ad esempio durante le ore di geografia utilizzavamo lo street view per visitare i luoghi che studiavamo. Lei mi ha aiutato a fare le frazioni senza fare tanti passaggi, mi ha insegnato dei trucchi per farli più velocemente. Abbiamo approfittato di un progetto che offre la possibilità ai ragazzi di lavorare con un tutor in un rapporto uno a uno, quindi una dimensione che dal punto di vista della relazione è senz'altro più efficace e i risultati si sono visti da subito. Il ragazzo appena si è collegato mi ha raccontato che la sua professoressa di matematica dopo aver finito la verifica gli ha detto guarda su tre classi che ho sono molto orgogliosa di te perché ho trovato dei miglioramenti e vedere quel suo sorriso mi ha emozionato tantissimo perché ancora adesso la pelle tocca. Questa esperienza per me è stata fantastica perché ci siamo centrati solo sullo studio ma quando non avevamo compiti ci siamo messi anche a fare delle ricerche o ci siamo messi a parlare un po'. Vorrei ringraziare il volontario che mi ha aiutato per la pazienza che ha avuto con me e mi ha aiutato anche ad apprezzare materie che non mi piacevano. È molto importante anche il messaggio che si invia ovvero che anche nei momenti così difficili non siamo soli ed è importante creare delle reti di interconnessione tra le persone. Questo progetto mi ha ridato speranza ed è la speranza di riuscire un giorno a creare un mondo a portata di bambino. Grazie.